Scandalo sull'Isola dei Famosi. Edoardo Stoppa sotto accusa. Hai seguito l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi? Se sì, sicuramente saprai che Edoardo Stoppa è stato incoronato primo finalista della stagione. Dopo aver superato una prova contro Matilde Brandi, si è guadagnato un posto nella finalissima. Ma c'è chi ha sollevato delle polemiche riguardo alla sua vittoria? Secondo alcune voci, Edoardo Stoppa avrebbe barato durante la prova decisiva del naufrago vitruviano. Alcuni sostengono che la produzione abbia favorito la sua vittoria, nonostante ci siano state delle irregolarità. Dejanira Marzano ha denunciato il presunto inganno attraverso i social, sottolineando che le telecamere non avrebbero ripreso le scorrettezze commesse da Stoppa durante la prova. La polemica è diventata sempre più accesa, con molti spettatori che chiedono trasparenza e la pubblicazione integrale delle riprese della prova contestata. Alcuni sostengono che avrebbero preferito focalizzare l'attenzione su Arthur per distrarre dal comportamento scorretto di Stoppa. La questione ha diviso il pubblico dell'Isola dei Famosi, con alcuni che difendono la correttezza del concorrente e altri che chiedono chiarezza e trasparenza da parte della produzione. Nonostante le polemiche, Edoardo Stoppa può dormire sonni tranquilli sapendo di essere già qualificato per la finalissima. La situazione è in continua evoluzione e non si sa ancora come verrà affrontata dalla produzione del reality. Ma è certo che l'episodio ha scosso gli animi dei telespettatori e ha sollevato interrogativi sulla correttezza delle dinamiche all'interno dell'Isola dei Famosi. Cosa ne pensi di questa controversia? Se sei un fan del programma, sicuramente avrai un'opinione in merito. Resta aggiornato per scoprire come si evolverà la situazione e se verranno prese delle misure in merito alle presunte irregolarità di Edoardo Stoppa. Continua a seguire il nostro blog per tutti gli aggiornamenti sull'Isola dei Famosi e le ultime novità sul mondo della televisione. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campagna.